Ben ritrovati su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia che apriamo parlando di Covid. Andiamo a vedere i dati dell'ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute, dati che ovviamente riguardano la Sicilia. Sono 5.832 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 26.850 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 21,7% con la Sicilia che è al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi. Gli attuali positivi sono 76.071, i guariti invece 2.848, mentre si registrano altre 5 vittime che portano il totale dei decessi in Sicilia dall'inizio della pandemia a 11.188. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 801, 15 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva ci sono al momento 29 persone, due in più rispetto a ieri. A livello provinciale invece si registrano a Catania il maggior numero di nuovi casi, 2.065, poi Palermo con 1.855, quindi Messina con 814 nuovi casi Covid, poi Siracusa con 633 e poi le altre province con dati decisamente più bassi. Questi quindi i dati dell'ultimo bollettino Covid diramato dal Ministero della Salute. E adesso invece cambiamo argomento, parliamo di cronaca, la Polizia di Piazza Armerina ha arrestato un pericoloso stalker. Vediamo il servizio. Personale della Polizia di Stato del commissariato di Piazza Armerina ha dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP di Enna su richiesta della locale procura nei confronti di un uomo già gravato da precedenti penali, il quale si sarebbe reso responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. La persona offesa da alcuni mesi avrebbe subito pericolose condotte persecutorie da parte dell'uomo che non accettava la fine della loro relazione. Stante la pericolosa escalation degli eventi persecutori che l'uomo avrebbe posto in essere, che si sarebbero concretizzati nelle ultime settimane nel perseguitare la presunta persona offesa, nell'assillarla con continue telefonate e messaggi, nel minacciare la sua incolumità e quella dei suoi familiari, nello screditare la reputazione contattando le persone a lei vicine e nel minacciarla anche di deturparle il viso, la donna ha trovato il coraggio di rivolgersi alla polizia per denunciare i fatti. Le indagini svolte tempestivamente dal personale in servizio presso il commissariato di Piazza Armerina hanno consentito di delineare un preciso quadro indiziario in ordine al reato attribuito all'uomo. Il GIP presso il Tribunale di Enna ha emesso la misura cautelare e personale degli arresti domiciliari che nelle ore immediatamente successive è stata eseguita dagli stessi investigatori della polizia. Un altro fatto di violenza avvenuto invece a Custonaci dove un 44enne è stato denunciato poiché maltrattava i propri genitori. I carabinieri della stazione di Custonaci hanno denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia un 44enne del posto che da tempo avrebbe maltrattato gli anziani genitori conviventi. L'intervento degli uomini dell'arma a seguito di una richiesta di aiuto da parte delle vittime ha permesso di appurare come l'uomo avrebbe aggredito verbalmente i genitori dopo aver messo a soquadro l'intero appartamento. Dalle indagini eseguite dagli inquirenti sono stati svariati nel tempo gli episodi di violenza che il 44enne avrebbe messo in atto contro il padre e la madre. In maniera cautelativa inoltre i carabinieri di Custonaci hanno proceduto al ritiro del porto d'armi di un fucile da caccia calibro 12 e 160 cartucce legalmente detenute dal deferito. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi. A Catania invece un uomo violento picchiava la moglie per ottenere dei soldi, soldi che poi avrebbe speso acquistando della sostanza stupefacente, per questo ovviamente è stato arrestato. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato nella flagranza di reato un catanese 42enne gravemente indiziato di maltrattamento in famiglia e lesioni personali. La centrale operativa, a seguito di una richiesta d'aiuto, ha attivato un equipaggio del nucleo radiomobile in ordine a quella che sembrava una lite familiare. Appena giunta in quel condominio del popoloso quartiere di Librino, la pattuglia dei militari ha immediatamente ricevuto la denuncia della malcapitata, una donna di 50 anni, la quale si trovava in strada insieme alle sue due figlie di 19 e 20 anni. Tutte hanno raccontato ai militari le vicissitudini alle quali il marito padre le sottoponeva per la sua continua richiesta di soldi necessari a soddisfare la sua necessità di procurarsi quantitativi di droga di cui sarebbe dipendente. Proprio in quel momento l'uomo si è avvicinato ammettendo senza alcun problema di aver poco prima picchiato la consorte, confermando anche l'avversione delle figlie che avevano raccontato di essere intervenute a difesa della madre. In particolare la lite sarebbe scaturita dopo il rifiuto della moglie di consegnare alcuni euro al marito, il quale, preso dall'ira, l'avrebbe presa a schiaffi colpendola anche con un pugno sul naso. Provvidenziale l'arrivo delle figlie che si sarebbero interposte a tutela della madre chiamando nel contempo i carabinieri. La donna ha poi riferito che il marito già in passato le aveva procurato lesioni al viso con 20 giorni di prognosi, assumendo ormai un comportamento sempre peggiore. In un'occasione le avrebbe addirittura lanciato un coltello, per fortuna senza colpirla. Il presunto aggressore è stato pertanto associato al carcere di Noto. E' un fatto simile avvenuto anche a Licata, dove una 32enne già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'uomo deve rispondere delle ipotesi di reato di atti persecutori, lesioni personali, estorsione e porto abusivo di armi oppure oggetti atti a offendere. Il 32enne infatti ha tentato di fare irruzione nell'abitazione della sorella colpendo ripetutamente la porta d'ingresso con un martello. Il suo obiettivo era quello di ottenere del denaro per acquistare sostanze stupefacenti. La vittima, una casalinga di 46 anni, da circa sette mesi sarebbe stata più volte vessata, minacciata e aggredita fisicamente dal fratello, sempre a causa di queste continue richieste di soldi. Cambiamo argomento adesso una notizia da Bronte, una tragica notizia. Una donna infatti è morta schiacciata dalla sua stessa auto. Secondo una prima ricostruzione la donna stava scaricando la spesa in via Udine, una strada in forte pendenza a Bronte nel Catanese, quando la macchina si è rimessa in marcia travolgendo la malcapitata. Con ogni probabilità la donna aveva dimenticato di inserire il freno al mano. Invece ci tocca parlare di un altro incidente mortale sul lavoro, stavolta avvenuto a Paternò. Siamo sempre nel Catanese. Un operaio edile di 61 anni, Angelo Aiosa, è morto stamane precipitando da una impalcatura. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in via Erbe Bianche a Paternò. L'uomo è caduto da questa impalcatura per cause ancora in fase di accertamento ed è deceduto poco dopo l'incidente. È stato inutile dunque l'intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme ai carabinieri. E da Paternò ci spostiamo invece a Vittoria dove un'anziana donna di 75 anni è stata trovata morta nella sua casa in via Garibaldi. Il corpo era in stato di decomposizione. Secondo le prime verifiche, il decesso sarebbe avvenuto alcune settimane fa, forse un mese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno forzato la porta dell'appartamento per entrare. L'anziana non era sposata e viveva da sola. Cambiamo ancora argomento, torniamo a Catania. Un uomo non si è fermato a un posto di blocco imposto dai carabinieri, ha speronato l'auto dei militari ma poi è stato fermato, ebbene nascondeva la droga negli slip. I carabinieri della stazione di Sant'Agata Libattiati hanno arrestato nella flagranza di reato un 36enne catanese poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella scorsa serata, intorno alle 22.30 circa, la pattuglia ha incrociato un'autovettura mentre transitava in via Principe Nicola nel quartiere Picanello, condotta dal 36enne, soggetto noto alle forze dell'ordine per sue pregresse vicende giudiziarie, il quale viaggiava insieme alla propria famiglia. I militari hanno deciso di seguirlo discretamente sino a bloccarlo in prossimità del Viale Libertà, provocando però la reazione dell'uomo che ha ingranato la retromarcia speronando più volte l'autovettura dei militari nel tentativo di fuggire, salvo poi arrendersi una volta vistosi bloccato. Ben presto i carabinieri hanno compreso il motivo della reazione dell'uomo perché a seguito di perquisizione personale all'interno dei suoi slip hanno estratto un contenitore di plastica al cui interno aveva occultato circa 100 grammi di marijuana, motivo per il quale la 36enne è stato posto agli arresti domiciliari dove tuttora permane come disposto dal giudice all'esito dell'udienza di convalida. E parliamo ancora di spaccio di droga con una notizia che arriva da Rosolini. I carabinieri nel corso dei controlli effettuati nei confronti di soggetti sottoposti a misure alternative al regime carcerario hanno arrestato per detenzione al fine dispaccio di sostanze stupefacenti un marocchino 35enne già detenuto ai domiciliari. L'uomo a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di diverse dosi di eroina, hashish e marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. Dopo le formalità di rito il marocchino è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari mentre la droga e il materiale rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo a gel, a sversamento e combustione illecita di rifiuti, sono state emesse otto misure cautelari. Vediamo il servizio. Il commissariato di pubblica sicurezza di Gela, su delega della Procura della Repubblica, ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP nei confronti di otto dei quattordici indagati nell'ambito di un procedimento penale in cui allo Stato delle indagini preliminari in corso vengono contestati a vario titolo diversi episodi quali combustione e sversamento illecito di rifiuti, ricettazione e violazione di sigilli. Nei confronti di quattro indagati è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, disposta altresì nei confronti di altri quattro indagati la misura cautelare del sequestro preventivo di sette mezzi pesanti utilizzati senza le prescritte autorizzazioni per il trasporto, sversamento e abbandono del materiale di scarto proveniente da attività agroindustriali su un fondo privato dove era stata allestita la discarica abusiva. Nel corso dell'indagine si è appurato che tali condotti avvenivano nell'esercizio dell'attività di impresa nel settore dello smaltimento dei rifiuti. In ordine a tali fatti il GIP del Tribunale di Gela ha applicato la misura cautelare della sospensione delle autorizzazioni, licenze, concessioni per il trasporto e la trattazione a qualunque titolo dei rifiuti nei confronti della società coinvolta. È emerso inoltre che gli indagati, oltre a essere attivi nello smaltimento illecito dei rifiuti, riuscivano a trarre ulteriori importanti profitti attraverso un secondo canale di lucro, derivante dalla rivendita del materiale ferroso ricavato dai cumuli di rifiuti date alle fiamme. Per tali fatti sono state elevate contestazioni provvisorie per il reato di ricettazione anche nei confronti di un imprenditore operante nel territorio di Niscemi. E sempre a Gela è stato effettuato un maxi sequestro di beni a un imprenditore, scopriamo perché. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, nei confronti di un noto imprenditore 45enne di Gela, già gravato da numerosi precedenti in quanto condannato per associazione mafiosa, estorsione, usura, evasione, detenzione illecita di stupefacenti e detenzione illegale di armi. Il provvedimento fa seguito a una proposta di misura di prevenzione patrimoniale e personale avanzata dalla Procura della Repubblica di Gela e si inserisce nel cosiddetto sistema definito doppio binario, mediante il quale i beni riconducibili al prevenuto vengono sequestrati sia nell'ambito di un procedimento penale che nell'ambito del procedimento di misura di prevenzione. L'uomo, attualmente imputato per trasferimento fraudolento di valori, falso e truffa, nonché indagato per bancarotta fraudolenta, ha mantenuto negli anni una pericolosità sociale perseguendo e continuando il proprio disegno criminoso consistito nella gestione di fatto di due aziende a lui riconducibili anche successivamente all'applicazione di una misura cautelare personale. L'intero quadro investigativo ricostruito dalla DIA e dalla Procura di Gela, anche sulla base di procedimenti penali recentemente conclusi, ha quindi convinto il Tribunale della Prevenzione di Caltanissetta a emettere un sequestro anticipato di beni ritenuti provento di attività delittuose. Oggetto del provvedimento sono l'intero capitale sociale e il complesso aziendale dei beni di due società di Gela operanti nel settore del commercio all'ingrosso di frutte e ortaggi, due motocicli e alcuni rapporti bancari per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia ma ci ritroviamo più tardi ovviamente su Sicilia 24.